I pazienti svieni d'Italia per avere l'opportunità di avere una nuova donazione fresca, anche il FIV con etnologo. Noi abbiamo una grande quantità di donatrici giovani, parliamo in lingua italiana con le pazienti, accessi Marbea è un ospedale molto, un location molto bello e rilassante e anche Marbea offre eccellente hotel e residence. Il nostro tasso di successo è abbastanza alta per le donazioni, abbiamo fra 65% e 70%. Non è importante l'età della donna che riceve gli embrioni, è importante l'età dell'ovulo e tutti i nostri donatrici sono sotto 30 anni. Il tempo necessario per completare un ciclo di overdonazione è fra 7 o 8 giorni. A volte è necessario venire per una initial consultazione con il nostro specialista, specialmente se non hai un dottore che collabora con noi in Italia. Per contattarmi per più informazioni mi puoi sempre contattare con il telefono, il whatsapp, email, skype o il chat sul nostro website. Grazie! Grazie! Grazie!